Altre due carcasse di cinghiale, una sul torrente Staffora, non lontano da Bagnaria e inoltre Po, e l'altra nei pressi di Travacossico Mario, alle porte di Pavia, sono state recuperate nelle scorse ore, inviate all'Istituto Zoo Profilattico per la ricerca di eventuali tracce della temuta peste suina africana, il virus per il quale il governo ha posto in lockdown migliaia di ettari di boschi fra Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Lombardia, sta tenendo con il fiato sospeso i produttori di carni e salumi a causa dei blocchi alle esportazioni già scattati da paesi come Cina e Giappone e di quelli che potrebbero essere attivati da altri stati. I reperti vanno ad aggiungersi a quelli di altri 11 animali ritrovati sabato durante la battuta nel territorio nella cosiddetta fascia tampone, un'area di 10 chilometri dal confine con la zona rossa dell'Alessandrino, in cui la regione ha disposto una serie di divieti come la caccia, la raccolta dei tartufi e tutte le attività cinofile. I primi risultati dell'analisi sono attesi a breve, ma intanto, come detto, anche nella fascia tampone dell'Oltrepò, dove peraltro vengono segnalati da ATS ben otto allevamenti di cinghiali su cui sarebbero in corso approfondimenti, sono scattati i primi divieti e la sorveglianza dei boschi da parte delle autorità competenti. Nell'attesa dei risultati, intanto, il dibattito sul territorio continuo e in molti, si chiedono, dopo quasi due anni di pandemia, come si è arrivati a mettere in lockdown anche i boschi. Cosa ci insegna, se ci insegna qualcosa questa situazione che si è venuta a creare? Beh, la natura si riappropria sempre dei propri equilibri e purtroppo l'influenza umana, di nuovo, ancora una volta, ha scardinato tutto quello che era, purtroppo, il già non equilibrio e il caos che c'era a livello appunto faunistico. Cinghiali ormai sono in ogni dove, in numeri appunto anche elevati, troppo vicino alle case, in alcuni centri abitati, ma anche importanti, pensiamo a Genova, ma addirittura anche Pavia, li vediamo nelle periferie urbane, vicino ad esempio ai cassonetti dell'immondizia, ormai poco diffidenti anche dalla presenza umana e di conseguenza tutto ciò non può che portare in qualche modo ulteriore, come dire, disequilibrio. Se ovviamente ci sono i referenti istituzionali e quelli titolati apposta a questo monitoraggio, il nostro ruolo è quello di fare una sintesi, diciamo, di tutti i loro saperi e delle loro competenze per fare divulgazione e sensibilizzazione, anche per non fomentare paure inesistenti, ad esempio la prima, la potenziale contaminazione verso l'uomo che assolutamente non sussiste.